Salve a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarion, se non l'avete già fatto ci vedete al canale, mettete un bel like, lo potete fare anche adesso, non ci ho bisogno di aspettare a finire il video. Oggi vi faccio vedere una modifica che ho portato alla stampante per migliorare il lavoro che svolgiamo tutti i giorni. Ho messo una guida per il filamento, questo lo troverete sotto il link in descrizione, e questo qui, entrambi i pezzi li ho realizzati con il software che avete visto anche in un video precedente, se non l'avete visto vi metterò anche lì il link. Questo qui è quello che mi ha fatto vedere più tempo, perché l'ho dovuto ristambare più volte, prima di trovare la forma e le disposizioni ideali. A cosa serve? Se vedete ha una semplice una porta, che posso utilizzare per aprire e chiudere la ventola, in questo modo posso accedere direttamente al vano dove c'è il filamento. Grazie anche al pulsante, posso liberare il filamento, staccarlo e sostituirlo. Fatto questo, si può chiudere tranquillamente e cominciare con il nostro lavoro. Vi mostro che questo alettro e freddamento utilizzato l'ho dovuto modificare. Su questo punto qui ho dovuto tagliare via tre parti in metallo, perché davano problemi con la vite di supporto. Non è una modifica molto difficile da fare, basta utilizzare un dimmer, se ce l'avete il dimmer, con una pizza a punta potete staccarlo. Quindi a questo punto spero che questo progetto qui sia di vostro gradimento, più avanti penso di modificarlo ancora, proprio in questo caso ho evitato di utilizzare il classico file zip, in descrizione troverete il link a un sito dove mi sono registrato apposta per voi per rendere più pratico e comodo l'aggiornamento di questi miei progetti. Come ho detto prima, non dimenticatevi di mettere un bel like. Arrivederci.